In queste ultime settimane sono stati attivati diversi punti di vaccinazione anti-covid sul territorio cilentano. L'amministrazione di Castelnuovo-Cilento, retta da Eros Lamaida, è stata tra le prime ad aver allestito un centro in via Spinarete, seconda traversa a Velina. Le persone vengono vaccinate previa convocazione dell'ASL, già previsto attraverso i canali ufficiali di prenotazione da lunedì al venerdì dalle ore 15 alle ore 20, sabato, domenica e festivi dalle ore 9 alle ore 14. Nelle ultime ore il primo cittadino annunciato, con le disposizioni del governo e del suo commissario generale Figliuolo e con la convocazione che nessuna dose deve essere sprecata, abbiamo deciso di attivare una lista di sostituti. Le liste saranno utilizzate qualora dovessero risultare dosi inutilizzate di vaccini a fine giornata. Si possono iscrivere alla lista solo coloro che sono iscritti in piattaforma indipendentemente dal luogo di residenza. Le categorie interessate sono 60, 69, 70, 79 e il siero somministrato al momento è l'AstraZeneca. Non possono essere inseriti in lista le persone che appartengono alle categorie delle persone fragili. Per essere inseriti nella lista dei sostituti, dichiara il sindaco Lamaida, basta inviare un messaggio whatsapp ad Angelo Mascolo 345 26 96 799, a Bruno Rinaldi 338 32 06 355, indicando nel messaggio cognome, nome, luogo di nascita, data di nascita, numero di telefono. L'obiettivo è quello di accelerare la campagna vaccinale affinché venga superata al più presto questa situazione, dando una mano ai presidi ospedalieri che fino a poche settimane sono state le uniche sedi dove poter ricevere la somministrazione del siero.